Musica Buonasera, buonasera da Onda Tg, in primo piano la pagina dell'occupazione del lavoro, lo spettro di Crevalcore che alleggia sulla Magneti Marelli 3, ma ora la fabbrica Peligno per il ricorso agli ammortizzatori sociali. Un ritorno dal prossimo giugno, così le organizzazioni sindacali si appellano alla politica. Facciamo il punto nel nostro servizio. Ad oggi non ci sono all'orizzonte nuove lavorazioni che assicurino futuro allo stabilimento Peligno. Lo spettro di quello che è accaduto allo stabilimento di Crevalcore alleggia sulle nostre teste, con la consapevolezza che il territorio, dal punto di vista dell'attrattività industriale, non è esattamente paragonabile ad altri. Lo scrivono in una nota le organizzazioni sindacali territoriali RSU dello stabilimento Peligno della Magneti Marelli, preoccupate per quanto emerso dall'incontro nazionale di aggiornamento sulle prospettive di tutti gli stabilimenti. Nei prossimi giorni si svolgerà un'assemblea con i lavoratori della fabbrica Peligno per illustrare il piano industriale fare il punto della situazione. L'appello è per le forze politiche in campo nell'ultimo giorno di campagna elettorale. Se da un lato ci aspettiamo che l'azienda si sforzi a ritrovare soluzioni, di superare la condizione di monocommittenza non più sostenibile, dall'altro chiediamo alle istituzioni, in particolare alla regione Abruzzo, finora del tutto assente, di essere a fianco delle lavoratrici, dei lavoratori della Marelli di Sulmona per affrontare con concretezza questa difficilissima situazione. Le incalzano le organizzazioni sindacali ricordando che le commesse costellantis del Ducato sono state confermate solo fino al 2028 ed è sfumata la possibilità di acquisire la piattaforma large con lo spettro degli ammortizzatori sociali dal prossimo mese di giugno. Perché se è vero che i volumi produttivi per il Ducato continuano a risentire del picco positivo degli ultimi mesi del 2023 e concludono, a partire da giugno 2024 potrebbero subire una flessione. E ora la cronaca con i furbetti dell'8 marzo, scovato un ambulante senza licenza, la Guardia di Finanza sequestra 500 mimose e le dona alle case di riposo. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Vendeva le mimose senza licenza e autorizzazione. A stanare il furbetto dell'8 marzo, un commerciante ambulante della zona, è stato il nucleo mobile della Guardia di Finanza di Sulmona che ha sequestrato questa mattina oltre 500 fasci del fiore simbolo della giornata dedicato alle donne. Un'operazione volta a contrastare il commercio illegale. Dei controlli a tappeto effettuati in città, solo un ambulante è stato pizzicato e multato dai finanzieri con una maxi sanzione da 5.000 euro, come prevede la normativa di riferimento. Le mimose poste sotto sequestro sono state donate alle ospiti delle strutture per anziani presenti sul territorio cittadino e un modo per far sentire anche a loro il colore e il calore della festa. E ancora la giornata dell'8 marzo, dedicata alla donna che si fa messaggio con il suffraggio universale. La lezione arriva da nonna Giussi, 108 anni. Domenica farà di tutto per andare a votare. Vediamo nel servizio. Allora, oggi siamo qui a casa della signora Giuseppina Patriarca e siamo qui per farle alcune domande. Allora, signora Giuseppina, quando è nata? Io sono nata il 6 novembre 1915. Se la salute me lo permette, farò tutto il possibile per andare a votare, visto il sacrificio delle donne per conquistare questo diritto. Nel clima delle eminenti elezioni regionali, la voce di Giuseppina Patriarca, la donna più longeva ad Abruzzo, risuona con una forza singolare. Le sue parole rappresentano un richiamo tangibile all'importanza della partecipazione politica, al valore del voto, soprattutto in un momento storico in cui il ruolo delle donne nella società viene celebrato, riconosciuto con particolare enfasi. La giornata della donna, celebrata ogni 8 marzo, non è solo un'occasione per festeggiare i successi e le conquiste delle donne nel corso della storia, ma anche per riflettere sulle sfide ancora presenti, sulle strade da percorrere verso l'uguaglianza di genere. In questo contesto, le elezioni regionali diventano un momento cruciale per la partecipazione delle donne alla vita politica, per la promozione di una società più inclusiva ed equa. La figura della donna come madre, come guida, emerge nel discorso di Giuseppina Patriarca, la decana dell'Abruzzo, 108 anni, arzuilla, lucida, si è scritta perfino su TikTok. E lo scorso novembre il Presidente della Repubblica l'aveva nominata commentatore della Repubblica. Vivo, sono vissuta e vivo in Abruzzo. Sono andata a votare la prima volta, sono stata contentissima perché ho potuto esprimere il mio parere. Si ricorda quante donne c'erano? Veramente non erano tante. Poi, mano a mano... Sono trascorsi molti decenni da quando lei era una bambina. Com'è cambiata, secondo lei, la condizione della donna? Qui, se vi posso dire, il mio parere, la condizione della donna sarebbe bellissima, ma la tentazione ci sta. Ci sta chi ci vuole bene e chi ci vuole male. E allora la donna deve essere di animo forte perché la donna ha un suo parere, la donna ha il suo cuore, la donna ha il suo cervello e anche lei conta, no? Allora, sai, io non sono d'accordo con te. Non è perché non voglio bene a te. E bene ti voglio, però non condivido il tuo modo di pensare. Oggi è la festa della donna. Una bella festa perché la donna è qualcosa di importante nella società. Ma agli uomini dico di rispettare e lo ripeto rispettare la donna perché non è una cosa, è una persona. Gli uomini devono essere educati a questo e se non lo sono naturalmente sbagliano la via non prendono la via del bene ma la via del male. Auguri a tutte le donne con immenso affetto da parte mia. L'8 marzo del punto nascita quattro parti in una sola giornata una targa in ricordo di Romana l'ostetrica deceduta. nei mesi scorsi. Il nostro servizio. Francesco, Leonardo, Francesco e Venere con quattro fiocchi appesi in una sola giornata il punto nascita dell'ospedale di Sulmona celebra la giornata dell'8 marzo. Tutti parti spontanei che sono stati eseguiti nell'arco delle ultime 24 ore roba che non si vedeva da tempo. Per le puerpere donne e madri sicuramente una data da incorniciare da ricordare il punto nascita inserito nel piano sanitario regionale non deve più lottare per la sorvvivenza ma la sfida resta quella di alzare i numeri. Per dare più valore e significato alla giornata della donna da reparto hanno deciso di inaugurare la targa del blocco parto in memoria di Romana d'Aurora l'ostetrica di 62 anni deceduta lo scorso 26 gennaio dopo un intervento ai calcoli. Un pezzo di storia dell'ostetricia di ginecologia di ginecologia pelinia che ora viene suggellato e scolpito nel suo reparto un'iniziativa che assume un forte valore educativo una targa nella giornata della donna perché dalla donna nasce la vita. E come avete sentito le mimose sono finite anche nel centro trasfusionale di Sulmona una giornata all'insegna della solidarietà. In un'epoca in cui i diritti delle donne sono sempre più al centro del dibattito pubblico la città di Sulmona ha scelto di celebrare l'8 marzo giornata internazionale per i diritti della donna con un gesto di solidarietà che unisce generosità e riconoscimento. Al centro trasfusionale di Sulmona le donatrici di sangue sono state accolte con ramoscelli di mimosa simbolo di stima e gratitudine per la loro donazione. Questa iniziativa promossa dalle donne del direttivo della sezione VAS Renato Massaro è stata guidata con passione dalla vicepresidente Emma Carfagnini. L'associazione ha espresso il proprio ringraziamento a tutte le donne che hanno scelto di festeggiare questa giornata attraverso un atto di altruismo contribuendo così a salvare vite umane. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutto lo staff medico e infermieristico del centro che ha reso possibile la riuscita dell'evento. Con questo omaggio floreale tipico della ricorrenza Sulmona ha dimostrato che la celebrazione dei diritti femminili può avvenire attraverso gesti concreti di sostegno alla comunità rafforzando il messaggio di quanto sia prezioso il contributo delle donne in ogni aspetto della vita sociale. Ci fermiamo con la prima parte e tra poco con le nostre notizie. Grazie a tutti! Grazie a tutti